Per gli appassionati di Dama vorrei presentare questo libro che è il libro mio e del mio maestro in quanto l'idea primaria è stata mia e poi ho chiesto al maestro di aiutarmi, al maestro Alessandro Ferrari uno dei giovani più forti in Italia. Di cosa parla questo libro? Dal titolo potete capire che tratta di aperture vedete, qui dalle aperture di Dama, logicamente trattiamo la Dama italiana e abbiamo deciso di scrivere questo libro perché spesso la parte delle aperture viene trattata in modo approssimativo oppure comunque raramente trattata come si dovrebbe. Vi faccio vedere un po' l'impaginazione, vi faccio l'introduzione. l'indice, l'introduzione, la bella delle aperture e poi cominciamo una per una con lo studio delle aperture. Lo studio sistematico, vedete che il libro è completamente a colori, gli diagrammi sono a colori, molto carina la grafica, il formato è più grande dell'A5, è scritto abbastanza chiaramente e ci sono tutte le 126 aperture. Trattate tra l'altro in modo il più dettagliato possibile, poi è chiaro che le varianti in gioco sono talmente tante che era difficile andare oltre. Forse si poteva scrivere qualche trucchetto in più per tentare di vincere, comunque è andata così. Io credo che come libro di aperture sia comunque molto dettagliato. Alla fine vedete che c'è anche una parte di problemi, se vi volete sbizzarrire a risolverli. Bene, questo è il retro. Sul retro c'è la foto degli autori, un'ultima pagina e il diagramma numerato. Vedete? La damiera numerata. E qua ci siamo io e il maestro in una gara dove stavamo giusto allenandoci. Bene, se volete comprarlo il prezzo è abbastanza basso perché è 20 euro per un libro totalmente a colori, di 200, oltre 250 facciate e diciamo che è un prezzo conveniente per gli appassionati. Se volete comprarlo dovete solo contattarmi, non dovete far altro che contattarmi, io ve lo spedisco per posta. Adesso poi dovremmo ottenere le copie corrette, altrimenti se vi devo vendere una copia non corretta vi invio tempestivamente anche il documento contenente gli errori che abbiamo trovato, direi che li abbiamo trovati praticamente tutti. E cos'altro dire? Se lo volete contattatemi, io ve lo spedisco per posta, potete fidarvi. Fino adesso ne ho spediti alcuni, pochi, ma comunque abbiamo venduto per lo più alle gare, solo che noi essendo del Nord Italia non siamo riusciti ancora a diffonderlo nel Sud. Bene, vi ringrazio per la visione, vi saluto, ciao!